Buongiorno ragazzi, buongiorno di questo video siamo tutti e oggi sono un nuovo video dove apriremo il pacchetto sole e luna pokemon e non stavolta no, guardiamo i nascenti ma non lo so che cos'è vabbè, ho cambiato il pacchetto questa volta l'ho pagato 4,50 euro e ragazzi l'ho aperto perfetto, mamma mia si apre pure il pacchetto perfetto eccezionale la cosa, veramente allora pacchetto spacchettoso niente, sole e luna non mi dice questo simbolo non lo so cos'è vedete allora altra volta non riesco mai ad aprire se lo aprisco aspettate, non lo voglio rompere quindi lo aprirò bene ce l'ho aperto perfettamente faccio solo un pochino dove? le carte aspettate, ce l'ho rotto un po' perchè ora lo dovevo aprire abbiamo questo il trick allora questo questo e questo allora non voglio vedere l'ultimo pacchetto energia psico rdr ci sta rdr piersian di aola si evolve da mutu di aola spero di trovarlo in questo pacchetto dartix si evolve da rolet allora paras jungus sempre tutte basse video 90 80 70 l'ultima non è non so se è l'ultimo si è l'ultimo no c'è un altro zubat c'erano 5000 di questi 50 poplio ce l'ho sceglie c'ho pure questo ah no era questa e non neanche stavolta una gix tutte basse ma ce n'è solo una che è abbastanza forte che c'ho pure guardate cloyster 120 di vita si evolve da sceglie quindi buono questo pacchetto buono non troverò mai una gix eh ma è difficile ragazzi e poi pure sfortuna ho fatto 5 pacchetti credo si erano 5 li ho fatti tutti i video e non troverò mai una gix niente il pacchetto era uscito aspettate zitti ragazzi il pacchetto era uscito cioè l'avevo aperto benissimo poi non uscirono le carte allora ho pure rotto vabbè quelli sono dei tagli niente ragazzi spero questo video vi sia piaciuto per la prima volta ho aperto questo che è stato buono perchè ho trovato uno di 120 che non è male assolutamente perchè io c'ho un mazzo dove c'ho tutte quelle super il 100 è fortissimo e qualche quelle blu del team non mi ricordo niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video e be e un Grazie.